A tutti una buona serata, le previsioni per domani mercoledì, prosegue soleggiato, fresco all'alba ma con clima mite primaverile in giornata, temperature in lieve aumento massime tra 17-19 gradi, ancora mite per la stagione anche in montagna con zero termico attorno a 2700 metri, poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti e leggera foschia sulla pianura.